Continua la nostra carrellata di piloti di Formula 1 che in carriera hanno vinto un solo titolo mondiale. Grandi, grandissimi e non per questo meno meritevoli degli onori della cronaca solo perché negli anni seguenti qualcuno ha vinto di più. Nella prima puntata vi abbiamo parlato di Nino Farina, il primo iridato di Formula 1 nel 1950. In ordine cronologico verrebbe Mike Cotorn con il suo titolo del 58 ma di Mike abbiamo già parlato approfonditamente nella serie di speciali dedicati ai piloti Ferrari Primavera e che trovate al link in descrizione. È di un altro pilota Ferrari che vogliamo parlarvi, americano, anzi l'americano come l'ha ribattezzato la stampa italiana, il primo statunitense a conquistare un campionato del mondo di Formula 1. Oggi parliamo di Phil Hill. Nato Phil Toll Hill Junior, Phil Hill è un ragazzo americano che si innamora fin da piccolo delle auto e delle competizioni a motore. Abbandona dopo due anni gli studi all'università della South California per iniziare a fare il meccanico. Mette da parte qualche soldo che gli serve per acquistare un MGTC con cui inizia a correre nel 48. L'anno dopo si trasferisce in Inghilterra dove trova lavoro alla Jaguar. Qui impara il mestiere e lo stile di guida europeo per tornare a Pebble Beach perché, dove oggi si celebra il concorso d'eleganza, una volta si correva e Hill vince. Si mette in mostra la carriera panamericana del 52 a bordo di una Ferrari dove chiude al sesto posto. Nel 54 fa coppia con Carroll Shelby su una Ferrari 750 Monza alla 12 ore di Sebring, corsa che termina al secondo posto assoluto. Nel 56 è ormai entrato stabilmente nella galassia Ferrari dove inizia a inanellare un'ottima serie di piazzamenti e di vittorie. L'anno magico è il 58 con i successi alla 1000 chilometri di Buenos Aires, alla 12 ore di Sebring e alla 24 ore di Le Mans. Hill vuole la Formula 1 ma i volanti Ferrari sono già tutti occupati e così paga di tasca propria il suo primo gran primo a ruote scoperte quando affitta la Maserati 250F dell'amico Joe Bonnier per il gran primo di Francia che chiude al settimo posto. Dopo quanto è successo a Musso e Collins, Enzo Ferrari lo chiama per offrirgli il ruolo di scudiero di Otorna per il resto della stagione, ruolo che il ricopre egregiamente scortando l'inglese a Monza e in Marocco. Siamo nel 61, il suo anno di grazia. Phil è un pilota Ferrari di punta per la Formula 1 in quella stagione, la 156F1 è la monoposto da batter, la lotta è interna alla scuderia di Maranello quando si arriva al Gran Premio d'Italia. C'è un giovane scozzese che si sta mettendo in mostra e che potrebbe dare fastidio agli uomini Ferrari, di cognome fa Clark. Wolfgang von Trips è in testa alla classifica mondiale, deve solamente chiudere la corsa davanti a Hill e il gioco è fatto. Taffi, così era soprannominato il nobile tedesco, esce di pista proprio dopo un contatto con Clark. La sua 156F1 vola sulla folla e porta via insieme alla sua altre 14 vite. La gara continua, come è successo anche per l'Alemagne del 55 dopo l'incidente di Pierre Levegue. La folla infatti potrebbe ostacolare i soccorsi intasandoli via d'accesso all'autodromo. A Hill non viene detto nulla, vince la gara ed il suo titolo mondiale. È il primo statunitense a raggiungere questo risultato. Nel 62 le Ferrari semplicemente non possono competere con le macchine inglesi. Hill è costretto a tirare i remi in barca. Passato alla TS di Kitten 63 non riuscirà più a replicare i risultati di quel fantastico 61. Direi che si può benissimo racchiudere la figura di Hill in questa sua frase. Stare alla Ferrari era una specie di inferno dove sembrava di picchiare la testa contro un muro di mattoni, ma non importava perché era il più bel muro del mondo. Noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!